mi interessano più i personaggi ecco che le trame che il personaggio se ben costruito si ha una sua forza può condurre quello che lo scrittore vuole insomma la trama serve anche per impressionare infatti è tipica dei romanzi gialli cioè dei romanzi che sono generalmente considerati serie b anche se questo fatto del contenuto una necessità diciamo di catalogazione ma poi tu puoi trovare il complesso di edipo non è un giallo per esempio non è un giallo delitto e castigo e certamente vasolini è presente è presente innanzitutto perché il protagonista è un ragazzo ed è un ragazzino diciamo non povero perché il padre gode di privilegi di un camorrista però povero culturalmente indifeso vulnerabile e quindi molto vicino al sottoproletariato vasoliniano questo messaggio io l'ho amato devo dire la verità mi ha fatto compagnia perché io l'ho scritto sto sto vita incagliata quando venne quel grande caldo che morirono molti vecchi io ero solo perché ingrid stava con gli americani facendo uno dei suoi viaggi di lavoro e io stavo da solo con un caldo terrificante e questo qua questo personaggio mi teneva veramente come un agnello amato grazie a tutti